La Audient ID14 di seconda generazione è una delle migliori schede audio in questa fascia di prezzo. Siamo poco sopra i 200 euro, con ottimi preamplificatori, silenziosi, un'ampia gamma dinamica e distorsione assente. Vediamone le caratteristiche principali. Bentornati sul canale, sono Giancarlo e oggi parliamo di un'ottima interfaccia audio di casa Audient, la ID14 versione 2. È un'interfaccia desktop da tavolo, piccola e maneggevole, costruita con cura, solida, con uno chassis di metallo e manopole precise e resistenti, che non presentano giochi. Queste le dimensioni. È USB powered, ovvero non ha bisogno di un'alimentazione esterna, ma viene alimentata direttamente dal computer tramite un cavo USB-C. L'interfaccia viene fornita con un cavo USB-C to USB-C. Potete anche usare un cavo USB-C to USB-A, ma è importante usare il tipo USB 3 e che venga inserito in una porta USB 3, perché come USB-C fornisce un'adeguata potenza di output per l'uscita a cuffie. Registra fino a 24 bit a 96 kHz. La sto utilizzando ora per registrare l'audio dello Shure SM58. Ha degli ottimi preamp molto puliti, con bassissimo rumore, siamo sui livelli di quelli usati sui banchi da studio, e dei buoni convertitori AD, DA, analogico digitale e digitale analogico. Il tutto contribuisce ad avere un suono compatto, trasparente e fedele. Nuovi convertitori quindi per questa versione. La precedente montava i Bar Brown. I preamp sono molto silenziosi e forniscono 58 dB di gain, in grado quindi di alimentare la maggior parte dei microfoni. Inoltre, nell'ID Mixer possiamo avere un boost di 10 dB. Questo boost permette per esempio di utilizzare un microfono come lo Shure SM7B senza utilizzare Cloudlifter per avere un volume decente. Abbiamo due ingressi microfonici di tipo combo, Amphenol XLR TRS Jack. L'input frequency response dell'ingresso microfonico è molto flat, lineare, soprattutto se non teniamo il gain al massimo. La dynamic range dell'ingresso microfonico, ovvero la differenza tra il segnale più forte che può catturare in confronto al noise floor, più alta migliore è perché ci lascia spazio in registrazione senza introdurre rumore, è di circa 113 dBU e siamo su livelli davvero ottimali. L'EIN equivalente input noise è circa meno 130 dBU a pesata. Siamo a livelli top. La distorsione THD plus N è davvero bassa. L'input impedance è di 2.8 kOhm. La risposta in frequenza dell'uscita monitor è perfettamente flat, con una dynamic range di 125.5 dBi. Qui si nota un notevole miglioramento rispetto alla versione precedente dell'ID14. Fronte. Sul fronte abbiamo due uscite cuffie con ingresso da 3,5 mm e jack da un quarto. Possono essere usate contemporaneamente, ma il controllo del volume è unico. L'avere la connessione SBC ha fatto sì che l'interfaccia potesse avere molta potenza da riversare sull'uscita cuffie. In questo modo si possono pilotare tranquillamente anche cuffie ad alta impedenza, fino a 600 Ohm. Possiamo avere un differente mix in cuffia rispetto a quello che abbiamo sulle monitor, utile quando vogliamo mandare in cuffia per esempio a chi sta suonando o cantando qualcosa di specifico, utilizzando la funzione Q-Mix attraverso l'ID Mixer Panel. La risposta in frequenza dell'uscita cuffie è davvero impeccabilmente flat. Miglioramento rispetto alla versione precedente dell'ID14. Ottimo il controllo della distorsione e del noise floor. I volumi poi, essendo controllati digitalmente, permettono un cross-talk perfetto in quanto il bilanciamento tra i canali destro e sinistro è ottimo. Un ingresso ad alta impedenza a strumenti al quale collegare una chitarra o un basso. Quando viene collegato un strumento tramite un connettore jack TP tip sleeve sbilanciato, a questo viene assegnato l'input 1, bypassando quindi l'ingresso posteriore, che viene disattivato. La qualità di questo ingresso è fenomenale. Ottimo per chi suona la chitarra, uno dei migliori in circolazione. Retro. Sul retro abbiamo due ingressi mic-line combo, che accettano quindi XLR tipici di microfoni o TRS da un quarto, tipici degli strumenti line. Quattro uscite TRS bilanciate, così che possiamo collegare ben due paia di casse monitor o un amplificatore cuffia esterno o un processore esterno. La gestione dell'output può essere fatta tramite il routing del system panel all'interno dell'ID mixer. Possiamo controllare lo switch degli speaker, cioè mandare l'output a coppie di speaker diversi, main mix e alternative speaker, anche tramite il pulsante personalizzabile ID presente sulla parte superiore. Se dovesse esserci una differenza di volume tra una coppia di speaker e un'altra, possiamo aumentare o diminuire fino a 6 dB il gain degli speaker alternativi, sempre tramite la scheda del system panel. Se volessimo lo stesso audio in uscita per entrambe le coppie di speaker, basta segnare ad entrambe main mix. Un ingresso ottico, che permette di espandere e far crescere l'interfaccia. Basta collegare un preamp microfonico aggiuntivo tramite l'ingresso ADAT o SPDIF e registrare fino a 8 ingressi aggiuntivi. Avremo così in totale 10 canali in ingresso e 4 in uscita. Abbiamo poi la porta USB-C. Parte superiore. Due switch per alimentazione Phantom Power, in caso di microfoni che ne abbiano bisogno, indipendenti per i due ingressi. Due manopole per controllare il gain del canale 1 e 2 del mic line input posteriori. Un main meters, ovvero la scala del volume di output a LED, con indicazione del valore relativo su 8 valori, da meno 36 dB a 0 dB, con indicazione del clipping. Questo indica il livello di riproduzione, non l'input level. Questo va visto sulla nostra DO purtroppo. Uno status LED che indica il corretto funzionamento della connessione al computer tramite USB. Altri meter non servono perché le informazioni aggiuntive le possiamo leggere sulla DO. Una manopola di tipo scroll che controlla il volume di uscita degli speaker e delle cuffie. Ad ogni scatto corrisponde un incremento di circa 2 dB. Ha dimensioni generose e si regola molto bene. Una funzione molto utile la si ha premendo la manopola. Mette in mute l'uscita speaker o cuffie attiva. Ce ne accorgiamo perché il pulsante relativo lampeggia. Premerla nuovamente per l'unmute. Ovviamente possiamo mutare o meno cuffie e speaker nell'ID mixer, ma avere la portata di dito fa molto comodo. Possiamo utilizzarla anche come scroll all'interno della nostra DO o di altri, molti altri programmi, anche non musicali. Basta aver assegnato all'interno del system panel scroll control alla funzione ID mode. È come avere una seconda rotella scroll del mouse. Si punta il mouse su un regolatore all'interno di un'app, si preme il pulsante ID e si regolano molteplici parametri girando la manopola. Lo trovo utile soprattutto quando non si ha un mouse e magari si deve lavorare con un laptop. Si ottengono regolazioni molto più precise. Abbiamo poi tre encoder mode buttons. Due bottoni illuminati che indicano il main output select, ovvero permettono di scegliere se l'output sia su cuffie o su speaker. Il controllo sul volume è separato tra monitor e cuffie. Si preme il pulsante relativo al monitor alle cuffie. Il bottone si illumina e con lo scroll si regola il volume. Il volume dell'output è visualizzato sui led del meter. Un ID bottom personalizzabile. Di default attiva lo scroll nelle DO utilizzando il volume knob, ma nel system panel può essere configurato secondo le nostre esigenze. Per esempio può abilitare l'ascolto sulla coppia di monitor alternative. Lateralmente abbiamo la possibilità di utilizzare un Kensington lock per prevenirne il furto. Prima di collegare l'interfaccia scaricate i driver per il vostro sistema operativo Mac o Windows. Installatelo, riavviate il computer e poi collegate l'unità. Aggiornate il software e siete pronti. Ovviamente selezionate nel controllo audio del vostro computer l'Audient ID14 se volete che il suono passi attraverso di essa. A quel punto il suono in uscita si sentirà solo tramite le cuffie o gli speaker collegati alla scheda audio. Per poter scaricare i software gratuiti in dotazione dovete registrare la vostra unità sul sito dell'Audient. Latenza. La round trip latency è il tempo che un'interfaccia impiega a mandare in output un segnale e a registrarlo di nuovo, utile quando vogliamo applicare degli effetti in tempo reale a quel che stiamo registrando, come per esempio la simulazione di un amplificatore suonando la chitarra. La latenza dipende dal sample rate, dal buffer size e dal computer. Questa è la latenza con buffer size a 64 sample con un sample rate di 44,1, 48 e 96 kHz. E questa con buffer size a 128 sample sempre a 44,1, 48 e 96 kHz. Siamo sotto la soglia che ci farebbe percepire un ritardo per cui possiamo dire che la latenza è assente. Funzioni software ID Mixer App. Il software di gestione del mixer e delle funzioni è ben fatto. Audient dedica molta attenzione al software del monitoring. Facciamo solo un accenno perché ognuno ha le sue esigenze e approfondirà le molteplici funzionalità che gli servono. Aprendo tramite l'icona ID si ha la possibilità di monitorare senza latenza e impostare diversi Q-Mix. In alto a destra abbiamo la Channel Views, dove possiamo, cliccandoci, decidere cosa mostrare nel mix, ingressi analogici, digitali, do e nascondere i canali che non utilizziamo o non ci interessano. Sulla sinistra, MIC 1 e 2 indicano gli ingressi fisici analogici sull'interfaccia. I digital input si riferiscono a quel che viene connesso tramite l'ingresso ottico e il loro numero dipende dal tipo di input digitale, SPDIF o ADAT, e dal sample rate utilizzato. Infine, i canali DO si riferiscono all'output della nostra DO o software. Importante sottolineare che l'ID Mixer controlla il monitoring dell'ID 14. I cambiamenti che effettuiamo qui non avranno effetto sui livelli presenti nella nostra DO. All'interno dei canali abbiamo diverse funzionalità. Possiamo cambiare il nome al canale, assegnandone uno per ottimizzare meglio il lavoro. Basta fare due volte clic sopra. Face Flip possiamo invertire la polarità del segnale di 180 gradi per fermare la cancellazione di fase. Pen Control per fare il pane e mandare l'audio al canale destro o sinistro. Stereo Groping possiamo linkare i due canali adiacenti in un unico canale stereo con un singolo father di controllo. Più 10 dB Boost fornisce un boost al segnale di 10 dB. Questo influisce sull'audio inviato alla DO. Solo e Mute rispettivamente permettono di mettere in solo o rendere muto il canale selezionato. Il father controlla la quantità di segnale mandato al mixer tra meno infinito e più 6 dB. Il meter mostra il livello di segnale in dBFS. Abbiamo poi i comandi del monitor control. Tre differenti mix, il control volume knob, il dim per diminuire il volume di un valore che andiamo a impostare nel system panel sotto a trim, alt per fare lo switch dei monitor quando magari vogliamo ascoltare il nostro mix su un paio di casse monitor differenti. Fare l'inversione di fase. Mono permette di sommare l'output stereo in mono per verificare magari la compatibilità del mix. Mutare speaker cuffie e infine TB che sta per Talkback. Il Talkback è utile quando si vuole comunicare in cuffia ad uno speaker o cantante o musicista in una sala di registrazione stando magari in cabina regia. Andando nel system panel e selezionando Talkback abbiamo la possibilità di scegliere la sorgente di origine, interna sull'ID 14 oppure esterna, un microfono USB, il microfono del computer eccetera. Andrò ad assegnare le cuffie ad un Q-Mix sul quale attiverò come sorgente il loopback, dimmando il resto. In questo modo quando lo attivo si sentirà solo ciò che viene detto senza il resto del mix principale. Posso impostare l'ID button per attivare il loopback. I Q-Mix permettono di impostare dei mix specifici indipendenti dal main mix, cioè dal mix principale. Supponiamo per esempio che un cantante voglia sentire quel che canta con un volume più alto all'interno del mix. Presupponendo che lui stia ascoltando tramite l'uscita cuffie dell'ID 14 andiamo nel routing del control panel, insegnando alle cuffie il Q-A, ovvero il mix che andiamo a creare con un Q-Mix, che rinomineremo magari cantante, in cui col father impostiamo un volume maggiore per il canale di input analogico del microfono. Abbassiamo quello generale proveniente dalla Do. Ecco un mix personalizzato a portata di bottone. Il system panel ha molte funzioni e personalizzazioni. Non mi dilungo perché ognuno eventualmente si studierà le cose che gli interessano, altrimenti dovrei fare un video di due ore. Il loopback, sempre più in voga perché utile per chi fa podcast, streaming, video tutorial, permette di registrare l'audio che esce dal nostro computer, quindi qualsiasi audio che esce da app all'interno del nostro computer, oppure permette di mandare l'audio dalla nostra Do fuori tramite sistemi di streaming come OBS. In questo modo chi ci ascolta potrà sentire simultaneamente l'audio che esce dal nostro computer e quello che diciamo tramite del microfono. Bisogna nel menu a comparsa ID impostare set loopback source con quella appropriata. Il logic che uso per registrare o condividere il loopback bisogna selezionare l'input 11 più 12. Gli input 3 a 10 sono riservati per gli input addizionali ADAT. Difetti. Avendo un output impedance abbastanza elevata, questa interfaccia per un ascolto critico dà il meglio di sé con cuffie con un'impedenza di almeno 80 ohm. Non ha il MIDI, non si ha un'indicazione del livello di input sull'evalmeter per settare correttamente il nostro gain, ma dobbiamo vederla sulla nostra Do. Qualcuno preferisce avere il comando fisico sull'interfaccia per, come avviene per l'ID4 Mark II o l'Axe I.O. per il mix tra segnale pulito a zero latenza è quello processato dalla Do, anziché averlo via software. Il fatto che per ottenere il volume ottimale dalle cuffie bisogna collegarlo tramite USB-C o USB 3 non la reputo un difetto. C'è chi magari a poche porte sul computer sono già impegnate, per cui gli risulterebbe più facile utilizzare un ingresso di tipo USB-E. Però si può sempre utilizzare una dock come quella che utilizzo io, la Thunderbolt Station TS4 di Cold Digit, e si sta a posto. Paragoni. Rispetto alla precedente versione abbiamo un guadagno di dynamic range considerevole, 5 dB sulla conversione AD e 9 sulla conversione DA. Rispetto per esempio alla Audient EVO 8 ha diverse cose in comune, a partire dal prezzo. Hanno 4 uscite. La EVO ha 4 ingressi contro i due dell'ID14, ma la qualità di quelli dell'ID14 sono ben al di sopra di quelli dell'EVO, e abbiamo un ingresso digitale per espanderla. Le uscite cuffie doppie in entrambi sulla EVO sono gestibili separatamente via software, mentre sull'ID14 no, ma queste ultime sono più potenti e pilotano cuffie ad alta impedenza. Anche la gestione software, come quella manuale sull'ID14, è su livelli decisamente più professionali, a mio avviso. Rispetto alla Audient ID4, Mark II ha una resa sonora identica. Cambia solo il numero di ingressi, la mancanza dell'ingresso ottico sull'ID4 e il software core dato. Le interfacce audio al giorno d'oggi, almeno su questa fascia di prezzo, si equivalgono abbastanza. Questa Audient ID14 vanta preamplificatori magnifici. Bassissimo rumore, ampia gamma dinamica, distorsione assente, capace di gestire un microfono come lo Shure Ascent 7B senza utilizzare crowdlifter o Fethead, capace di pilotare cuffie ad alta impedenza, espandibile tramite EDAT o SPDIF, ottimo software di monitoring, il tutto ad un prezzo giusto. La scelta può essere determinata dalle necessità di ciascuno di noi, per esempio il numero di ingressi che ci servono e la possibilità di espandere quelli presenti, la facilità di utilizzo, il software core dato. Io lavoro su due postazioni e ho le due schede che ritengo le migliori in circolazione per le mie esigenze, la Audient ID14 Mark II e la Moto M2, di cui trovate la recensione sempre qui sul canale. La Moto M2 ha un I.O. MIDI e un bellissimo display, ma non ha possibilità di espansione. Quando utilizzo la chitarra elettrica con software di simulazione utilizzo la Axe I.O. dell'I.K. Multimedia, perché è specificatamente indirizzata all'uso chitarristico e ha molti comandi fisici facilmente regolabili. Inoltre si integra bene nell'ecosistema che utilizzo con le monitor iLoud e le più piccole micro e software Amplitube. Sempre qui sul canale ho un video che spiega nei dettagli le caratteristiche di un'interfaccia audio. Bene, mi auguro che abbiate trovato informazioni utili. Iscrivetevi al canale e lasciate un like se il video vi è piaciuto. Alla prossima, ciao!